Salve a tutti ragazzi, oggi stiamo giocando a Dead Island Raptide e direi di partire No, c'è il caricamento che si carica, caricati! E allora, non so che diavolo devo fare, sono arrivato in un'altra roba, non so che cacchio sia questo il posto. Il computer non è mio ma è di qui l'altro bastando il video, se c'è il computer dato 1000€ lo pezzo di merda, ok, qui sono arrivato a un punto, c'è un coltellino figo, ma solo quello, arrivano degli zombie, sono un po' ahhh, aahhh, ah oh cazzo! Ah merda, si stanno sbattendo con il nuovo solo, il mio solo solo mi si sbatta, ma non lo fattilo, cacciatore di gente sbattuto, ah cazzo! Ecco, si crepa molto facilmente sono appena crepato dai dannazione ah ok si possono lanciare i coltelli agli zombie e riprendersi di mentre ce li hanno ancora attaccati addosso si possono prendere poi i zombie e dagli la zampagna in faccia sento delle risate astratte dall'altra stanza tanta roba frutta 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 sono un fruttifero un orto frutteto basta chi se ne frega al colo vado a impiagare sono ubriaco adesso sono pronto a uccidere i zombie ho preso una merendina e adesso sono pieno di ragie sacchete e zacchete vaffanculo sto finendo le armi inventario si perchè ovviamente puoi tirare le armi ma se inventario li metti allora equipaggia equipaggia martello debole da falegname questo lo voglio proprio tirà ahi non si può equipaggiare qui qui ok questo se qualcuno ha mai giocato a a fallout questo è l'equivalente dello shish kebab cazzo zombie zombie ovunque il contenuto dell'escalario del buttore che è stato sbocato orco mi ha annullato dell'orco questo è orribile mi ha annullato dell'orco cazzo cazzo bocca eva zombie praticamente ovunque mozza di una testa ecco mi hanno fatto questo mh un gioco cazzo dell'anno questo mi ha fatto due teste insieme yeeeah non sono ancora morto posso farcela drogati drogati brutto bastardo io ti trovo capito io ti trovo e vai con questo siamo a non so quanti una strada ecco un braccio riprendiamo i coltellini che ho tirato prima si col cazzo che ci lasciano la lama barbecue ma cambiala immediatamente fanculo e questo che cazzo è marcus villa chi cazzo è marcus villa sto per uccidere perché pensavo fossero zombie fanculo che vuole sto pezzo di iodine si chi se ne frega del cazzo di parole fai uccidere 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 e uccidere e uccidere e uccidere e uccidere e uccidere ancora basta mi sono rotto il cazzo mi sono rotto il cazzo scorsi infiniti mi sono rotto le palle oh alleluia porta aiutazioni da marcus ad marcus ok perché c'è ad marcus raggiungi la zona morta che originalità un gioco di zombie raggiungi la zona morta sembra ovvio tutto morto mi sento discriminato sono vivo come il cazzo prendiamo a pugni i zombie sta uccidendo adesso non voglio essere incriminato per prasso perché ho detto ieri crema cruto bastardo crema oh cazzo questo è un assassino questo mena questo mena quindi ti tiro le cose poi vado lì e me le riprendo oh cazzo e lui mi da un pugno solo per terra fantastico quindi io che faccio dobbiamo il vecino e prima mi trovo provati ho iniziato a ritirare le cose e poi un'altra cosa e poi un'altra cosa e poi non gli posso tirare più i pugni malazzo poi ci riprendiamo un'arma e lui mi sbatte per terra no non mi ha sbattuto per terra ehm quindi li tiro le persone a cazzo 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 roma riluoglio le miami io ti ho dato una mazzaglia sta cosa non si può fare io voglio lasciare quella pallina non la voglio riprendere va bene basta oh cazzo c'è uno zombie vaffanculo zombie mi sono distratto e tu te ne approvetti vaffanculo drogati oh cazzo si è finito le drogazioni perché sto ridendo da solo oh mio dio oh no oh no 60 minuti o 3600 secondi cazzo sto parlando da solo a a a Grazie a tutti.